Sono nella redazione della casa editrice Forma, siamo una realtà giovane però stiamo crescendo man mano negli anni. Adesso è uscito questo sull'Eur, questo qui, che appunto è una raccolta fotografica dall'inizio e dalla progettazione fino alla realizzazione della nuvola, quindi non parla della nuvola ma parla del quartiere Eur, tutte le modifiche che ci sono state negli anni dalla Genesi fino appunto, come dicevo, alla costruzione dell'ultimo edificio che è la nuvola di Fuxas. È stata realizzata in collaborazione con Eur SPA e quindi le immagini sono quelle dell'archivio fotografico di Eur SPA. Stiamo preparando il libro sulla nuvola che dovrebbe uscire verso fine dicembre e inizio gennaio, quindi una monografia interamente dedicata a questo edificio, quindi sempre tutto molto specializzato in architettura e arte.